Il martedì e il venerdì sono i giorni destinati al padre, a cui poi andranno aggiunti i weekend alternati. Eh, mamma! Vai via a borsa, andiamo a casa. Eh, papà, ma come che stiamo insieme così poco io e te? Ma manca, mi fia. Io non so dove stai a via i soldi, ma tu fai un'altra cazzata e Claudia non la vedi più. Lo sai non si è affatto che scappa a te, guardia. E chi ti ha detto che devi scappare? Che dove? Dei gore. Io pensavo che stai a passare male, pensa. Non mi dicono per cazzo. Stratto! Non mi dicono per cazzo. Non c'è niente